I consigli dalle stelle e le previsioni del weekend con la classifica segni e pagelle per amore, fortuna e lavoro Ariete ha il coraggio di fare scelte finora rimandate. Toro deve fare attenzione ad alcune polemiche che possono nascere nei prossimi giorni Recupera gemelli dopo le preoccupazioni che hanno caratterizzato le ultime giornate Cancro in amore deve cercare di fare maggiore chiarezza in sé stesso. L'oroscopo domani segnala un fine settimana positivo per il leone che anche a gennaio sarà tra i favoriti dalle stelle Vergine deve cercare di ritrovare maggiore stabilità. Bilancia sta cercando di crearsi nuovi equilibri Per lo scorpione in questo periodo è necessario ritrovare maggiore sicurezza.La luna dissonante potrebbe complicare la fine settimana al sagittario Capricorno riacquista la voglia di fare, con il sole nel segno c'è più energia. Recupera anche l'acquario che avrà un fine settimana di forza Pesci può ritrovare l'amore e ripartire da zero, dimenticando il passato.Oroscopo domani 22 dicembre 2018 Paolo Fox, segni fortunati del fine settimana Ariete 9, c'è una condizione astrologica positiva, da novembre è iniziato un recupero L'estate è stata una stagione penalizzante dal punto di vista sentimentale. Superare determinate difficoltà non è stato facile, tant'è che hai dovuto subirne le conseguenze anche durante la stagione successiva Ora però si riparte, gennaio secondo l'oroscopo Paolo Fox di oggi sarà una giornata di recupero per l'amore e ti consentirà di rimetterti in moto Attenzione però a non fare le cose troppo di fretta. Questo fine settimana ed il prossimo anno Saturno dissonante ti costringerà ad impegnarti molto, ma Giove buona incoraggia Scorpione 9, l'oroscopo domani segnala ancora Venere nel segno. Devi cercare di essere un po' più positivo Dal punto di vista delle relazioni il nuovo anno promette bene. Non rimpiangere il passato, questo è un periodo che se sfruttato meglio potrebbe darti maggiori soddisfazioni Domenica sarà una giornata interessante per i sentimenti. Puoi rivelare quanto ami Acquario 9, avresti bisogno di rallentare, ci sono delle difficoltà che ti impediscono di andare avanti come dovresti In amore ci sono tensioni da risolvere. In questi giorni puoi cercare dei confronti, alcuni poi negli ultimi giorni sono stati male ma domenica si recupera Anche se questo è stato un anno faticoso, non devi perdere la fiducia nel futuro Buone opportunità possono capitare e regalarti di più.Pesci 9, è un buon periodo per ritrovare maggiore serenità in famiglia ed in amore Ora puoi recuperare un problema vissuto in passato. Se ci sono stati dei confronti accesi nell'ultimo periodo, adesso resetti e vai avanti Domenica bisogna essere cauti soprattutto per le polemiche che possono nascere in casa Se ci sono tensioni da risolvere in amore, meglio agire entro dicembre.Previsioni weekend, oroscopo domani di Paolo Fox e classifica segni Leone 8, ti trovi in una condizione molto fortunata e di forza. Se dicembre non è un mese particolarmente interessante, perché non ci sono quei cambiamenti e quelle novità che ti aiuterebbero a poter ottenere di più In generale però nel mese di gennaio sarai protagonista di un'evoluzione che ti consentirà di poter aprimeggiare sugli altri Questo fine settimana sarà interessante per i sentimenti. È un periodo bello per riscoprire il piacere di amare Bilancia 8, sei un segna che vuole sempre cercare di recuperare. Se ci sono delle tensioni da sbrigare, non esiti ad impegnati per provare a trovare un punto d'incontro In questi giorni ti sei impegnato tanto e sei stato anche molto generoso e disponibile nei confronti degli altri Purtroppo però non sei stato ripagato con la stessa attenzione e comprensione. Ci sono state tante complicazioni negli ultimi mesi, ma alcune soluzioni stanno arrivando Domenica giornata sotto tono per i sentimenti.Gemelli 8, c'è stato un rallentamento determinato da preoccupazioni e tensioni Questo malessere potrebbe essere stato determinato da alcune divergenze che sono nate in amore o in famiglia Potresti aver avuto dei sospetti o dei dubbi nei confronti del partner, e che per ora bisogna superare Entro gennaio arriverai ad una decisione. Se una crisi non può essere superata, ovviamente entro poco dall'inizio del nuovo anno arriverai ad una decisione Cancro 712, Saturno opposto comporta difficoltà ed in questo periodo ci sono incertezze che riguardano il futuro Non sai bene come regolarti circa alcune condizioni contrattuali e lavorative. Ci sono tante novità che stanno interessando anche l'amore Potresti essere anche indeciso tra due persone. Domenica giornata di forza anche grazie all'ottimo aspetto della luna I fatti vostri di oggi, Oroscopo domani di Paolo Fox e Pagelle.Sagittario 712, quando le cose non vanno come vorresti, potresti avere reazioni eccessive Molti si sentono pronti ad affrontare una nuova vita, anche se alcune decisioni devono essere prese anche in funzione delle necessità e delle responsabilità che bisogna ultimare Capricorno 7, il sole entra nel tuo segno zodiacale per te sarà più facile avere maggiore chiarezza delle cose da fare Hai un atteggiamento costruttivo nei confronti del futuro. Si recupera in amore, se qualcuno si è messo contro di te, potrai recuperare soprattutto durante il mese di gennaio Domenica giornata sotto tono, potresti sentirti un po' stanco e preoccupato e per questo motivo avresti bisogno di stare in disparte per riflettere Toro 7, ci sono state tensioni e polemiche in famiglia o in amore che adesso stai cercando di superare È probabile però che ora tu abbia deciso di mettere definitivamente fine a situazioni che non ti consentono di stare sereno Nel lavoro questi cambiamenti ti stanno portando dei risultati, ma in amore occorre ancora del tempo prima di riuscire a ritrovare quella serenità di cui hai bisogno Domenica giornata a 5 stelle per amore, lavoro e fortuna, grazie anche ad una luna in ottimo aspetto insieme al sole Vergine 7, c'è una condizione astrologica altalenante. I nati del segno sono pronti a risolvere qualche fastidio di tipo pratico È probabile che qualcuno sia contro di te e che la gestione di alcune situazioni possa rivelarsi più complicata Per l'oroscopo domani e durante il weekend non ci sono particolari novità nel lavoro In amore hai bisogno di fare chiarezza, ed entro gennaio occorrerà avere un confronto costruttivo con il partner Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like